Quest'anno la Fiera di San Marco unisce quella che è la tradizione economica di mercato, di ventina di mercato, a quella che è la cultura. Una cosa nuova, ma in realtà una cosa che c'è sempre stata, perché la Fiera è stata sempre un punto di incontro di genti, di popoli, di persone che venivano da diversi paesi e che scambiavano il loro saper fare, la loro cultura, la loro manualità, ma anche i modi di parlare, i modi di vivere. Quindi la Fiera è stata sempre un crocevia di culture, come tutte le grandi fiere. Quest'anno però c'è, grazie all'amministrazione comunale, una rinnovata volontà a dargli un taglio culturale importante. Ci saranno dei percorsi legati alla visita delle chiese, mostre come quella di Roberto Zirano, altre mostre che vengono organizzate dalle associazioni culturali locali e poi ci sarà soprattutto il coinvolgimento delle scuole, perché le scuole diventeranno poi gli organizzatori del domani, della Fiera del domani. Questo è stato un grande passo in avanti, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, anche in collaborazione con l'Unione dei Comuni. E vi è un altro passo importantissimo, che è quello di recuperare la storia della Fiera, attraverso i documenti di archivio, attraverso quella ricerca che poi permetterà, come si diceva, e io spero e mi auspico che veramente questo succeda, di creare un museo che racconti questa Fiera, che racconti di queste genti, che racconti di questi scambi commerciali, umani, culturali, di conoscenze che si sono susseguiti per quasi 200 anni e che continuano ad essere vivi nella popolazione, nel ricordo di tutto il territorio, perché il territorio per un giorno all'anno, per più giorni, adesso confluisce in questo luogo quasi magicamente, quasi che questa cosa sia un rito ancestrale che si ripete continuamente di anno in anno.